Buonasera, buongiorno, inizio bene, sono tre ore di sonno. Allora questa sera il gran finale con i 30 cantanti che finalmente si contendono il titolo di vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo e per la prima volta dopo quattro serate verrà svelata la classifica provvisoria di tutti i cantanti, dei 30 cantanti in gara. In apertura ci sarà la banda musicale dell'esercito italiano che seguirà l'inno di Mameli e successivamente si darà via al televoto e si esibiranno i 30 cantanti. A questo punto poi Amadeus darà la classifica finale definitiva dal 30 al sesto posto e si azzererà la classifica completamente e i primi cinque si esibiranno di nuovo e il voto sarà della sala stampa TV e radio, della giuria della radio e del televoto. Con Amadeus ci sarà ovviamente Fiorello che in qualche modo sarà il co-conduttore di questa serata ma è sempre stato con noi per queste cinque edizioni e hanno fatto delle edizioni straordinarie anche difficili come per esempio l'anno della pandemia che di fronte a nessuno però per fortuna milioni di telespettatori sono stati di fronte alla TV a vedere questo grandissimo spettacolo. e oltre a Roberto Bolle ci sarà anche Luca Argentero che è il protagonista appunto della fiction direi uno doc e Gigliola Cinquetti che porterà dopo 60 anni nuovamente la canzone non ho l'età e quindi sarà anche questo un altro momento di celebrazione così come verrà dedicato un momento ai 70 anni, diciamo al compleanno della RAI ai 70 anni della TV, ai 100 anni della radio RAI poi verranno assegnati come da tradizione tutti i premi quindi da Leone d'Oro chiaramente per il vincitore al premio della critica Mia Martini che poi verrà assegnato da voi dalla sala stampa del Ruf dell'Ariston il premio della stampa Lucio Dalla che è assegnato invece dalla sala stampa del Parafiori il premio Sergio Bardotti per il miglior testo che verrà assegnato dalla commissione musicale e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dai maestri dell'orchestra sul palco Suzuki ci sarà Tananai e sul palco della Costa Smeralda ritorna Tedua l'inizio è alle 20.45 e la fine prima di uno mattino in famiglia, penso, no? questa settimana siamo stati, devo dire, a l'1.30 anche ieri, l'1.40 in realtà avevamo finito i cantanti in gara quindi erano contenti anche loro perché non hanno mai scavallato le due chiaro, questa è una serata particolare ma cercheremo di dare, come sapete, il giusto ritmo per finire in un orario assolutamente consono, si dice diciamo intorno alle 2.30, azzardiamo vediamo, anno scorso sì vedremo per la giuria tv e web dei 260 accreditati hanno votato in 257 e per la giuria delle radio dei 184 hanno votato in 178 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti